In Burgumarina c'è una grande e importante novità da qualche giorno, una nuova imbarcazione storica, la Maria, ormeggiata nel tratto di Porto Canale, proprio antistante il circolo dei pescatori La Pantofla di Cervia, di cui ora è di proprietà. Una meravigliosa barca storica, Maria, riportata nuova vita dalle sapienti mani dei maestri d'ascia, soci del circolo, che è appartenuta a Renzo Benini ed è stata donata al circolo pescatori dalla moglie Carmen Placuzzi e dalla figlia Francesca Benini per restaurarla, valorizzarla e con l'obiettivo di farne un importante elemento storico ed identitario della marineria di Cervia che ora vanta di essere la seconda tenza o flotta storica più importante dell'Adriatico. Stiamo cercando di lavorare per valorizzare le nostre vele alterze, le barche storiche, insieme alle mariegole della Romagna e devo dire che questa è una barca che ha un valore anche affettivo per la città, è stata restaurata dal circo dei pescatori. La vedete con la vela bianca perché essendo nuova non si può ancora dipingere ma abbiamo già messo in piedi qualche idea per far rivivere anche il momento della tinteggiatura tradizionale della vela. Quindi credo che il nostro porto, il nostro borgo marina sul quale stiamo lavorando molto per valorizzarlo, credo che avrà questo ulteriore elemento importante di testimonianza appunto delle famiglie, dei marinai, dei pescatori di un passato bello, importante, emozionante che però ci proietta nel futuro e quindi insomma credo che questo sia veramente un bellissimo connubio, poi potrà tornare a uscire in mare e quindi ospiterà magari i nuovi marinai che vorranno imparare a utilizzare appunto e a guidare queste barche che sono vela al terzo, sono anche difficili da comandare e da guidare, quindi credo che sia insomma una bella serata questa. Noi siamo orgogliosi di aver rimesso in mare questa barca, barca di un mio carissimo amico, carissimi diciamo poi anche la famiglia perché io li conosco, lei era una bimbina quando l'ho conosciuta io, è cresciuta, ha già i figli anche abbastanza grandi, ma questa barca quando mi hanno detto che non la davano a nessuno e l'hanno data al circolo pescatori per me è stato un grande senso di orgoglio perché vuol dire che il circolo pescatori a Serbia ha fatto qualcosa di veramente bello, soprattutto anche perché hanno creduto nella mia persona ovviamente, perché mi conoscevano, però l'orgoglio più grande per chi ha lavorato e ha rimesso in mare questa meraviglia. Questa è una barca storica che automaticamente entra nell'attenza di Serbia come ha detto il suo presidente essendo la decima barca storica di Serbia, io di questo sono veramente grato alla famiglia e orgoglioso dei miei volontari e del circolo pescatori della Pantopla. Io non ero molto sicura di darla, mia mamma mi ha convinto a donare questa barca che per noi è un pezzo di cuore, ma veramente di anima perché comunque c'è la nostra famiglia, c'è un pezzo di mio padre, c'è la mia crescita e tutto. Mi ha convinto a donarla soprattutto perché era al circolo dei pescatori, perché ad un altro circolo probabilmente non l'avrei donata, ma al circolo dei pescatori sì perché le persone che ci sono qui sono reali, sono vere, sono persone che conosciamo tra cui il presidente Mac che era uno dei migliori amici di mio padre. Mi hanno detto che hanno recuperato uno dei pezzi irrecuperabili, su questo pezzo è stato fatto un bel disegno che questa sera le è stato donato da maestro penso niente meno. Sì, è stato per me un... Vivrà anche ancora in casa questa barca. Esattamente, infatti verrà messa sicuramente nella mia sala a casa, a Imola, dove abito al momento, anche se il mio sogno era tornare a Cervia, ma tornerò prima o poi. I sogni si avverano quindi. Infatti. E avere lì un pezzo di questa barca che comunque mio padre ha amato oltre ogni limite, noi stessi, per noi è importante, è importante per tutto quello che ha rappresentato ed è... Io sono... Non ringrazierò mai abbastanza. E ora rivive di nuovo? Sì, finalmente sì. Questo è solo il primo passo, poi sarà dipinta anche la vela? Sì, lo so. La nostra vela l'abbiamo voluta avere per noi perché per noi aveva un significato emotivo importante, però ho già chiesto di fare un giro sulla barca per la Maria appena sia possibile perché... Le tre e mezza quando si può passare anche sotto, quando c'è la bassa marea? Tra l'altro io l'ho fatto, l'ho fatto, l'ho vissuta questa cosa anni fa, quindi so cosa vuol dire. Una grande festa del mare ma anche della città di Cervia. Partiamo dall'assessore della cultura. Questa sera un evento che ci riempie di felicità perché la donazione da parte della famiglia Benini di questa barca, barca storica a Cervia e la possibilità di ristrutturarla, di restaurarla da parte del circolo per noi è stato un evento veramente importante perché appunto dà alle nostre tradizioni di nuovo un cuore percursa. Un'altra occasione per far sì che il nostro centro sia sempre più vivo, un altro pezzo di anima della nostra città che ritorna a essere disponibile per tutti. Quindi per noi è veramente una cosa molto importante, simbolica. Ricordiamo anche Renzo, un caro amico. Siamo contenti di essere la seconda flotta dell'Adriatico dopo Cesenatico. Ormai li raggiungeremo, ne sono certa, i colleghi devono stare attenti, ma soprattutto sono contenta che la tradizione venga conservata, preservata e implementata. Devo aggiungere che stiamo lavorando su un progetto europeo proprio per valorizzare i porti turistici che hanno questa vocazione di porti museo e lavoriamo anche sul recupero delle marinerie storiche. Questa sera l'abbiamo già detto e ridetto, una serata importantissima, anche perché si recupera un pezzo storico che forse poteva essere così perduto inesorabilmente, invece i pescatori grazie all'amicizia con la famiglia Benini sono riusciti a riportarlo in auge. E come? Solo ed esclusivamente con il lavoro volontario di alcuni nostri soci che hanno una professionalità eccezionale perché tutta la vita hanno fatto queste cose. Due maestri d'ascia, Domenico Fioravanti, titolare di un grande cantiere che adesso è chiuso per raggiunti i limiti di età e Luigi Padoan che ha fatto anche lui il maestro d'asci in un grande cantiere di Cervia, De Cesari. Poi un motorista navale che ha smontato letteralmente il motore, lo è rimontato e adesso suona come un violino. Vico Padoan, loro lo chiamano il troverobe, cioè quello che riusciva a trovare tutto quello che oggi non si trova più, cioè i pezzi di ricambio che non esistono più. Non dimentichiamo che questa barcha è del 49 e quindi per me hanno esercito. È una lancia a vela. È una lancia a vela quando cioè si pescava a vela senza motore e pensiamo oltre alla fatica e al pericolo la difficoltà perché quando c'era vento c'era anche pericolo, quando non c'era vento non c'era la forza motrice, quindi erano vite veramente di sacrifici e di stenti eppure queste barche rappresentano la nostra storia. È solo grazie a loro che questo è stato possibile e penso che un circolo come il nostro che ha come missione quella di conservare le tradizioni, l'identità culturale della nostra città, questo è veramente il suo compito principale. Poi facciamo mille altre cose ma questa ci mancava ed è secondo me il fiorell'occhiello della nostra attività. Poi ci hanno aiutato Luciano Cucco, Arnaldo Lapaola Pierini, il gestore del circolo pescatori che ha devoluto a questa missione, gli incassi che sarebbero dovuti venire a lei da quelle iniziative che noi organizziamo da due anni, cioè le visite guidate al borgo con l'aperitivo con i pescatori. Andranno tutti per la manutenzione. Andranno tutti per la manutenzione del Maria perché queste sono barche che hanno bisogno di continua manutenzione. Il legno ha 70 anni. I ragazzi per convenzione adesso fanno parte della seconda flotta più importante dell'Adriatico dopo Cesenatico, ma attenti agli amici di Cesenatico ha detto l'assessore Fabio. Sì, la Tenza che è l'associazione che associa tutte le barche storiche di Cervia, che è presente anche negli altri comuni, conserva e valorizza queste barche che sono dei pezzi di storia. Poi tutte insieme le Tenze dei vari comuni della Romagna compongono la Marievola e ci diceva questa sera appunto il presidente della Tenza di Cervia che con dieci barche quella di Cervia è diventata la seconda Tenza più numerosa dell'Alto Adriatico. Questo è un bello orgoglio per noi. Che significato ha questa barca per voi? Questo qui è un fiore all'occhiello del circolo, ma io ho fatto una piccola parte di mettere alla volontà del maestro d'asse a fioravanti che senza le sue mani la Maria non sarebbe andata più in mare. Era impossibile, era un mucchio di asse che lui ha messo insieme. Io ho collaborato con lui per mettere insieme queste tavole. Più di lì non si poteva fare perché nel consiglio giustamente c'era gente che trovava dei discorsi errati per non farla. Più avanti è andato a vedere la barca e ha detto si ripara e io l'ho seguito e l'abbiamo riparata. Siccome siamo tutti amici nati qui, in questo viale qui, allora la siamo andati a vedere, però l'idea c'è venuta dalla mamma di Francesca che è venuta da me a dire ma l'acqua, la barca l'ha abbandonata tutta rotta, là in un campo, non c'è modo di metterla a posto. Quando l'ha vista la barca che cosa ha detto? Un disastro, era un rottame, era una barca che un privato non poteva permettersi di farla riparare. Volontari invece con il loro amore e il loro lavoro? I costi erano talmente tali che soltanto un passo poteva fare un lavoro così. Allora ci siamo messi d'accordo con il mio amico lì che lui lavorava da di Cesari e allora abbiamo fatto una squadra, in quattro, però abbiamo fatto delle regole, siamo partiti con delle regole, se le regole rimangono quelle noi la ripariamo questa barca e non abbiamo mai trovato da dire niente. Allora abbiamo lavorato quasi quattro mesi. L'unico problema è che, l'unico pericolo erano le mogli che a un bel momento chiedevano il divorzio perché noi a casa non facevamo più niente. Andavate sempre con la Maria? Niente, non facevamo più niente. Un bel risultato, è stato un bel lavoro di squadra, un po' discusso all'interno del circolo però insomma c'è stato chi ha vinto? C'era tanta gente che si veniva dentro a rompere l'anima a chi lavorava e giustamente io cosa facevo? Dicevo andate fuori, ho chattere di lavoro, lasciateli lavorare in pace. Si vuole dire, siamo in Romagna, ci si vuole qualcosa da dire sul fatto della barca, parlate con me, tanto dicevo io con te non ci parlo più, grazie, guarda come sei bravo, hai capito? Arnaldo faceva la guardia e voi lavoravate? Sì, per forza, perché io li mandavo via, non volevo nessuno. Maestro D'Ascia è così, i chieli che sanno creare sono così, vogliono tranquillità attorno? Tranquillità è responsabilità anche, perché se tu mentre lavoro io, tu vieni e parli, io non finisco più. Quattro mesi di duro lavoro? Sì, quattro mesi ci abbiamo. Arnaldo, quattro mesi che sono stati sofferti però, guarda che risultato, sarai soddisfatto? Non sono molti, non sono molti, io sono stato abituato ad un lavoro metterci una vita, io ho cominciato con delle viti e muoio con le viti in mano e ho sempre detto che da un moschetto Ferrari sono due motori e sono uguali. L'esperto di macchine come sei sempre stato. Grazie Arnaldo di questo tuo importante lavoro e sponsorizzazione che hai fatto, grazie al maestro D'Ascia, io ho l'onore di stringere la mano sui grandi personaggi, grazie veramente. Grazie a voi altri. Paola Pirini, il gestore del circolo La Pantofla di Cervia, doppiamente insomma impegnata poi a mantenere una parola e a un proseguo, brava Paola perché le cose quando si fanno vanno continuate e quando si dà una parola la si mantiene. Paola Pirini è questo. Sì è vero, da buona romagnola diciamo così che è quello che ho nel cuore o nella lingua. non è stato il restauro e contribuire economicamente per l'acquisto delle vele perché giustamente la famiglia Benini si è tenuta le vele perché è una vela che rappresenta la sua famiglia. Ma la barca una volta messa in acqua richiede tanto impegno sia manuale ma anche tanti soldi. Allora abbiamo pensato di creare un fondo per il restauro della Maria e abbiamo visto davvero tantissima partecipazione. Quindi io ho messo tra virgolette quello che sarebbe stato il mio ricavato nel fare questi aperitivi gastronomici perché quando partono dall'attore San Michele ed è un viaggio culturale poi arrivano al circolo pescatori ed è oltre a cultura e anche tanta gastronomia quindi è proprio cultura del cibo. Quindi abbiamo pensato di sensibilizzare le persone e di devolvere tra virgolette questo ticket per il restauro di quello che è la barca, di quello che è la Maria. La barca del circolo pescatori per noi è un vanto, un orgoglio perché il circolo pescatori è frequentato da tantissime persone ma pensano che sia fatto solo e esclusivamente da pescatori che infatti ci dicono ma pescate il vostro pesce. Adesso possiamo dire sì abbiamo una barca e possiamo anche contribuire a questo. Credo che sia un vanto anche per i turisti che danno una mano con questi aperitivi però anche loro si sentono un po' coinvolti nella manutenzione di questa barca. Questo allarga ancora di più la cultura storica ma anche turistica. Assolutamente sì, tant'è vero che l'anno scorso non abbiamo mai superato le 20-25 presenze quest'anno siamo passati anche oltre le 40 presenze, abbiamo avuto comunità di ragazzi diversamente abili, comunità di ragazzi stranieri, quindi è stato proprio diciamo così un banto accostare tante persone alla cultura del mare. e che si arriva, a un'evoluzione, felicità, noi vogliamo vivere senza pensieri e tutti i cieli e tutti i cieli vi salutiamo. La. La 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la... La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. E che insaltate si am сегодня, no, è te momento, Gelà. Quel che si fa è in via di a via, augura a te tutti, felicità. Noi voglia vive, senza pensieri, e tutto il cielo, il saluto chiaro